Musica Ciao a tutti ragazzi sono Speedgamer e oggi siamo tornati su Terraria Come state notando qua sotto ho sentito che sta sorgendo la luna di sangue E' la cosa più pericolosa del mondo Cioè praticamente abbiamo sapere vivere una notte con la luna rossa che sembra la luna di sangue E ci sono mostri deficienti qui nel midollo Vedete questo per esempio E' un deficiente Sono tutti diversi questo qua Questo che cos'è Ok Sono troppi A parte che sono troppi Cioè guardate cos'è questa cosa No vabbè questo è un suicidio Via No vabbè Mori Cosa? Posso aprire la porta No tu vuoi scherzare allora No vabbè No vabbè No vabbè E ci muoio Ci muoio Dove quanti sono ragazzi? E' una cosa impossibile Guardate questo qua Demon Eye Questo qua dovrebbe darci tutto le lenti nere Ma gli zombie sono troppi Cos'è? Guardate pure l'acqua è di sangue Pure l'acqua Eh no Se sto in casa almeno Posso essere protetto Perché qui c'è il fuoco Che mi rigenerà la vita Perfetto Sono tutti chiusi in casa Guardali Andate in casa Andate in casa No in casa ho detto Ok bravi bravi No no qua 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 Yes no No Si entra tutti in casa Si entra tutti in casa C'è un bel pigio da partia Ok No sta la tomba No vabbè non ci voglio credere Aspetta però No 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 Sono usciti Ok No pure qua L'acqua è uscito Voglio restare in casa Allora la festa è finita Quindi Se mi è evitato La giusta punizione La cosa voglio fare adesso è Per questa Water chest Devo dire tutto Ok perfetto Abbiamo questa lancia Ok Io da un po' che non la faccio Terraria Eh mi sono dimenticato Cosa abbiamo A disposizione Abbiamo tutte queste cose Sono schifo Abbiamo questo 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 Ok Allora Abbiamo un po' di cosette Allora oggi Voglio ampliare la casa Perché è troppo piccola Secondo me questa casa Quindi Facciamo una cosa di questo tipo Tutti le Ecco abbiamo abbastanza legno Trasformiamolo No Non trasformiamo nessun legno Facciamo così Guardate Boom Apriamo Apri Non lo devo aprire D'altra parte Ok Distruggiamo questo Innanzitutto Ma che c***o Ah è vero Col piccone Si distrugge Vai distruggi Ok Queste sono le tombe Ci sono diversi modi Per convincere le persone A trasferire In una tua città Sicuramente Una cosa in cui vivere Abbiamo bisogno Di una porta Di una sedia Di un tavolo Una fonte luminosa Assicurati che la casa Abbia anche delle pareti Capisco Ok Quindi bisogna fare Una cosa di questo tipo Siccome voglio Che lei Si trasferisce a casa mia Perché non può Vivere là dentro Devo fare tutte le cose Che mi ha detto Devo fare una sedia Un tavolo Ok Ci ho abbastanza Per fare la sedia Del tavolo Io è vero Si Si Una sedia Un tavolo Di legno Boom Ok Perfetto Ok Allora Lo mettiamo Al piano di sopra Ok Quindi Facciamo così Col piccone Ma tutti col piccone Si fa Tutto col piccone Piazza 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 Tutto questo legno Bello 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 Duro Duro No Togli tutto questo legno Diventevano una canzone Togli tutto questo legno Bello 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 Duro Duro Non ci basta Questo legno Dobbiamo andare a prendere Altro legno Ok Adesso Dobbiamo Ok Legno Posiziono tutto il resto Del legno Perfetto Adesso Qua sopra Dobbiamo mettere Le pareti Bisogna fare Le pareti Di legno Io non so Come si fanno Con uno Tenete a quattro Buono Ok 128 Niente ragazzi Dobbiamo andare a prendere Ancora altro legno Perché non ci bastano Oddio Lo slime Mi ha fatto L'ho sfiorato In un modo assurdo Lo slime 204 Basta ne avanza Vediamo se riusciamo a mettere Pure qua Sì ci basta Quindi adesso Il primo Di super mettiamo Questo E Questo Ok perfetto Adesso in teoria Perché non viene qua L'ospite Ecco casa Qua Di che sta alloggio A questo Vediamo Sbagliata Ehm Vediamo se Ecco non è valido Perché Questa alloggio è adatto Ok Esca vieni Ah forse Dobbiamo farlo entrare così Yes Devi è in casa Adesso dobbiamo farlo Ad arrivare In casa Cioè Devi sapi la posta No veramente Tu non sei una persona normale Levi Levi tu fai schifo eh Travo Levi Allora Dobbiamo fare una cosa del genere Insomma Levi non può entrare Eh va bello veramente No Se uccidi Levi Veramente Si deve entrare Devi riuscire ad entrare Ah forse manca una fonte Luminosa Ma quella ha detto Che è perfetto È adatto Quindi Integgia va tutto bene Sto ad aspettare che Levi Entra qua dentro E Sale Sali Levi Qui Eh Veramente Allora Vabbè ragazzi Il video finisce qui Se il video è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie.